Il sequestro degli immobili dove si esercita la prostituzione è l'ultima frontiera della lotta a questa piaga sociale. A questo sono ricorsi procura e polizia di Teramo che nell'ambito dell'operazione denominata Sex in House hanno sequestrato ben 29 appartamenti nel triangolo del sesso a pagamento formato da Martinsicuro, Villarosa e da Alba Adriatica. Oltre 20 gli indagati tra proprietari di appartamenti e intermediari e ben 131 prostitute di varie nazionalità identificate con 10 decreti di espulsione. Un'operazione di vasta dimensione partita in primavera e che sta vedendo in questi giorni la sua conclusione. I sequestri degli appartamenti sono stati effettuati questa mattina. Un fenomeno estremamente allarmante che ha molto preoccupato le popolazioni di tre centri che sono oggetto dei sequestri, tanto da determinare una serie di denunce che segnalavano questo diffuso fenomeno che preoccupava l'opinione pubblica, quindi questo ha determinato una serie di indagini corpose, prolungate che poi hanno portato al sequestro di ben 29 appartamenti. Sequestro di appartamenti e denuncia anche per i proprietari oltre che per gli affittuari? Sono in corso naturalmente delle indagini quindi permetterete che ci sarà un riservo sulla indicazione del numero degli indagati che sarà definitivo anche l'esito degli accertamenti che sono ancora in corso naturalmente ma che riguardano questo possiamo dire decine di persone. La costa purtroppo è infestata da questi problemi e soprattutto la zona che abbiamo attenzionato in questo periodo, Villa Rosa la conoscete sicuramente e purtroppo oltre al turismo balneare c'era anche questo tipo di turismo che è di un'altra natura è sicuramente illecita quindi l'intervento era dovuto e quindi ci siamo attivati per contrastare appunto questa situazione che era diventata pesante tanto che voi se vi ricordate sono state anche delle manifestazioni di comitati di quartiere, di cittadini semplici eccetera.